Buongiorno e bentrovati a questo appuntamento con la nostra rassegna stampa. Mattino 6 inizia come sempre dalla lettura delle prime pagine, in particolare da quelle abruzzesi. Il centro edizione di Pescara apre con la notizia di ieri che riguarda la morte del manager Fagnano. Muore Fagnano, regione in lutto. Il titolo che riguarda questa notizia è Infarto. Stronk è il direttore del Dipartimento Salute. Shock nel mondo politico. Prima di continuare a leggere le prime pagine della nostra regione andiamo a vedere proprio il servizio che riguarda questa morte improvvisa che ha gettato nel lutto sia la regione Abruzzo che quella Molise. Vediamo. Roberto Fagnano, 56 anni, ex direttore generale dell'Asla di Teramo, è deceduto questa mattina alle 10 all'ospedale di Teramo. Il prossimo, il nuovo ospedale teramano, porterà il suo nome. Commozione, sgomento tra colleghi e amici. Sono tutti lacrime davanti alla sala dell'emodinamica del Mazzini dove giace Roberto Fagnano. Non ce l'ha fatta superare un infarto massivo dovuto all'ostruzione coronarica. Nonostante fosse stato nominato direttore generale dell'Agenzia regionale della sanità, a Teramo veniva spesso, conservava un appartamento a Piazza Sant'Anna nel centro storico, dove si trovava questa mattina quando ha avuto un malore. Intorno alle 8.30 è passato a prenderlo un amico con il quale doveva recarsi ad un incontro. Gli ha aperto la porta dicendogli che stava male. In pochi minuti tutto è precipitato. È arrivata l'ambulanza e i rianimatori hanno tentato l'impossibile. Rianimazione che è proseguita per oltre due ore all'unità di emodinamica del nosocomio Teramano. Tutto inutile. Bisogna fare un incomio ai soccorsi della Teramana. Un soccorso ineccepibile. Hanno tentato per più di due ore di rianimarlo in tutti i modi, però tecnicamente dopo lo spiegherà il Dottor Napoletano, il direttore generale Roberto Fagnano non ce l'ha fatta e purtroppo devo dire che è deceduto. In realtà i soccorsi sono arrivati subito, però purtroppo si è avuto un'occlusione della coronaria di destra che ha portato un infarto con sicuramente conseguenze elettriche, c'è la fibrillazione ventricolare. Perché quando sono arrivati i soccorsi del 118 purtroppo era già in midriasi. E' un segno purtroppo che il cervello ha subito dei danni enormi. Poi è stato portato, è rianimato sul posto dal 118, è portato qui in emodinamica e poi si è continuato la rianimazione per un'ora e un quarto almeno qui sotto. Rianimato, massaggiato per un'ora e un quarto, un'ora e mezza, tempi precisi stanno scritti sotto sulla diaria, ma purtroppo non c'è stato nulla da fare. A Teramo si sono precipitati anche gli assessori regionali Verri e Fioretti per il Consiglio regionale in programma per oggi, è stato chiesto un rinvio. In questo mese e mezzo, due mesi, non so neanche io i giorni, già aveva dato un valido contributo, già eravamo in sintonia per quella che era una riorganizzazione della sanità della nostra regione. Un uomo con un'esperienza, con una capacità gestionale e aggiungo anche con un comportamento empatico, familiare. Trattenere le lacrime è difficile per tutti. Anche il sindaco di Teramo, Gianguido D'Alberto, nel riconoscere l'impegno profuso da Fagnano per la città, ipotizza il lutto cittadino. Parole di cordoglio anche da parte del presidente della provincia di Teramo, Diego di Bonaventura, che ricorda la lucidità e la visione professionale dell'ex direttore generale dell'Aslo. Anche il governatore Marco Marsiglio piange un valido professionista dalle grandi qualità umane. Il suo sogno era realizzare il nuovo ospedale di Teramo, ricorda piangendo l'attuale direttore generale di Giosia. I finanziamenti li aveva ottenuti con grandi sacrifici. E subito si concretizza la possibilità che il futuro nosocomio cittadino possa portare il suo nome. Su questa notizia andiamo a vedere anche la prima pagina della città, la sua apertura addio al padre dell'ospedale nuovo Roberto Fagnano stroncato da un infarto fulminante a 56 anni nella sua casa a Torre Bruciata. Il titolo sulla sua fotografia è lutto cittadino per il manager di spalla di Teramo. L'ospedale nuovo va intitolato a lui e abbiamo sentito tutti i dettagli nel servizio di Tania Bonnici Castelli è andato in onda ieri nel nostro telegiornale. Andiamo a vedere anche su questa notizia il messaggero Abruzzo, su cui torneremo poi per completare la lettura della prima pagina. Fagnano stroncato da infarto, sanità in lutto, la morte del top manager ed ex direttore generale della ASL. Torniamo adesso a vedere insieme nella loro completezza le prime pagine. Ripartiamo dalla prima pagina di Pescara e proseguiamo andando nel taglio alto. L'azienda di Castiglione a Casau e alla Oma chiusa la sede, ma la Humangest riaccende la speranza per i lavoratori. Poi Osciano, oggi lo sciopero per salvare 400 posti. Terminal Bus, Lega e Fratelli d'Italia non credono alle promesse di Virginia Raggi di far rimanere il Terminal nella stazione Tiburtina. Andiamo a vedere poi il centro pagina, nella fotonotizia il calcio, serie B, inutile il gol di Galano, i campani ribaltano il risultato, Pescara di Nuova Terra, la squadra non va, Biancazzurri piegati 2-1 dalla Juve Stabia e poi vedremo nella seconda parte il servizio. Nelle cronache, Testa patteggia un anno e mezzo per Bancarotta, ha chiesto di patteggiare 18 mesi nel processo che lo vede imputato in qualità di commercialista. Ancora Montesilvano, cliente rapinato, arrestati 4 trans e poi la discarica dei veleni, lettera a Conte per sbloccare i lavori a bussi. Andiamo a vedere anche nel taglio basso che cosa c'è, negozi in festa per Halloween, domani palloncini e dolcetti per accogliere adulti e bambini, le iniziative in centro città, i paperoni d'Italia, poi super ricchi del vecchio Scavalca Ferrero. Questo per quanto riguarda la prima pagina dell'edizione di Pescara, adesso andiamo a vedere anche l'edizione teatina del centro. Furto al Bancomat da 100 mila euro, il titolo di apertura, ride misterioso senza scasso alla Trinità, caccio al ladro solitario. Nel taglio alto ritroviamo il richiamo alla notizia della morte del ex manager dell'ASL di Teramo Fagnano. Poi andiamo a vedere le altre notizie. Pronte 70 mila dosi di vaccini mobilitati, 362 medici, lotta all'influenza a Chieti e provincia con la campagna di vaccinazione anti-influenzale lanciata dalla ASL, in prima linea 315 medici di famiglia e 47 pediatri, pronte 70 mila dosi in 13 ambulatori dell'ASL, il vaccino è gratis per gli ultra 65 anni e per i soggetti a rischio. Per tutti gli altri il costo è di 17,14 euro. Poi all'interno del giornale trovate anche i consigli dell'ASL e le date. Poi per la cronaca, travolto in strada, morto ad 82 anni, tragedia a Chieti, ex carabiniere investito in via Masci, l'automobilista è indagata. Andiamo a vedere nelle cronache, torniamo sulla OMA, ultimo giorno di lavoro dopo il crack per l'azienda metalmeccanica di Castiglione. Poi a Vasto, alberi tagliati, sono instabili e a rischio crollo. Poi a Ortona, rifiuti gettati sulle strade, multati in tre. Nel taglio basso la Sevel si ferma per il ponte di Ogni Santi, il turno di sabato è un caso, Fim Cisle esclusa dalla trattativa. Andiamo a vedere anche l'edizione teramana del quotidiano Il Centro. Anche qui ritroviamo in chiave più teramana la notizia della morte di Fagnano, infarto fulminante all'ex manager dell'ASL, da poco dirigente regionale. Nel taglio alto sotto la testata il Gran Sasso, pratiditivo, asta per gli impianti, ma la stagione è salva. Poi nelle cronache varato il piano antibarriere architettoniche, l'abbattimento delle barriere in città parte da cinque scuole, quanto stabilito da una delibera di giunta a Teramo. Poi la pista ciclabile accende il Consiglio Fiume a Silvi. Roseto iniziano i lavori per le scogliere nella zona nord e poi una notizia di cronaca. Ruba nel negozio in cui lavora Tortoreto, denunciata la dipendente di un supermercato, accusata un'amica. Poi nel piede della prima pagina, il Bonolis, il Teramo, detta legge per i biancolossi, un ruolino di marcia da grande squadra. Domenica arriva il Bisceglie. Andiamo a vedere l'ultima delle quattro edizioni provinciali del centro, quella aquilana. Il titolo di apertura, Parco della Memoria, lavori al via, prima pietra dopo dieci anni di attese, polemiche e ritardi. A centro pagina la protesta degli studenti dell'Ipsiar, studenti in corteo, vogliamo la scuola ricostruita. Poi cure negate a mia moglie malata, Avezzano appello all'asl del marito della paziente, sentenza del tribunale disattesa. Nelle cronache all'Aquila molesta nota ristoratrice va a processo, l'imputato a 55 anni. Capistrello vola da 5 metri nel cantiere, grave un geometra sul Mona, risse in centro, accoltellate, dura. Condanna. Nel taglio basso il Festival Sul Mona, quattro giorni di cinema, corti pluripremiate e sezione Tarantino, animano la 37esima edizione della rassegna internazionale di cinema a Sul Mona. Andiamo a vedere anche la prima pagina dell'inserto Abruzzo del messaggero che abbiamo già visto prima per quanto riguarda la morte di Fagnano. In apertura, quei veleni non sono nostri. Parla l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, che è titolare dei laboratori sotto il Gran Sasso, respingendo l'accusa di aver sversato Esano e Trimetilbenzene. Il forum dell'acqua insiste, avete quelle sostanze, ci sono i documenti che lo provano. Di spalla, fondi restart, lol in calza, avete perso sette mesi la polemica con il governo regionale da parte dell'ex vicepresidente dell'Aggiunta che si scaglia contro Febbo e l'Iris. Crack de Nicola, Guerino Testa vuol patteggiare il consigliere regionale nei guai per bancarotta nell'inchiesta, ben 18 imputati accusati di diversi reati. L'inchiesta risale al 2015. Lanciano Rapina ai coniugi Martelli, Ghivizio, chiede la scarcerazione. Questo è quanto richiesto al Tribunale da parte dei legali di Gheorghe e Bogdan Ghivizio, che hanno ufficialmente depositato al GUP Giovanni Nappi la richiesta di scarcerazione. Nel taglio basso, l'adannunzio Ateneo sul mare, milia in campo. La data simbolo è quella del 19 novembre 1986, quando per blindare la scelta tutt'altro che facile di Via Lepindaro, il super partito richiamò in aula persino Tino Di Sipio bloccato a letto dal mal di schiena. La storia in realtà è più antica e soprattutto spinosa, comincia dal gran rifiuto di Spoltore a ospitare le facoltà pescaresi dell'adannunzio nei terreni dove oggi sorge l'arca, primo test di una costruzione metropolitana complicata. Questa è un po' la storia che oggi porta nel DUP del comune di Pescara a prevedere l'Ateneo sulle aree ex Cofa. Le altre notizie sotto la testata, la stagione sugli sci, Pratiditivo pubblicato il bando di vendita degli impianti, lavoro con Adoshan e dipendenti a Roma contro il rischio esuberi per il calcio di Serie B. Il Pescara in 10 perde 2-1 sul campo della Juve Stabbia, primi 20 minuti scoppiettanti con il vantaggio siglato da Galano, poi la remontata dei Campani che segna il gol decisivo con Canotto, vedremo tutto nella seconda parte della nostra rassegna. Andiamo a completare anche la città dopo aver visto l'apertura di giornale, acqua sicura, scarica barile dell'INFN sulle contaminazioni, poi andiamo a vedere l'impresa, lavoro e turismo, l'outsourcing sbarca anche a Giulianova, sempre da Giulianova nuova proroga al condominio solidale. Poi andiamo a vedere nel taglio basso a Campli, Agostinelli, un progetto per salvare Castelnuovo dal discesso idrogeologico, Tortoreto, contributi economici del comune alle famiglie rimaste senza lavoro a Pineto, lo ricattano con una trappola sessuale, arrestati due colombiani. Lasciamo le prime pagine regionali, adesso ci spostiamo sulle prime pagine dei principali quotidiani italiani, il Corriere della Sera apre con la manovra meno tasse nella manovra del governo, conti pubblici, gualtieri, riformiamo IRPEF e IVA, Conte chiede coesione, alleanza irreversibile, vertice dopo la sconfitta in Umbria, non aumenta più la cedolare ma colpiti i giochi. Le piazze, i comizi e gli altri che fanno Salvini, non solo tweet, l'articolo di Pierluigi Battista e poi anomalie politiche, le urne senza centro, la riflessione sulle elezioni in generale, non solo sul voto in Umbria di Maurizio Ferrera. Poi andiamo a vedere nel taglio centrale del giornale, Cardinali contro il palazzo pagato con Lobolo, Parolina, Cusa, Beccio, Replica e tutto fango. Oggi il board del gruppo francese, nozze fra FCA e Peugeot, un'ipotesi da 50 miliardi, lo vedremo meglio anche sul Sole 24 Ore e sulla stampa. Libano, stremato dalle proteste, il premier Hariri si dimette, Beirut manifestanti da giorni nelle strade attaccati da Hezbollah. Dunque ci sono nuove tensioni nel Medio Oriente con un rischio ancora più grave di instabilità in quella zona del mondo, già così problematica. Andiamo sulla Repubblica, avviso al governo, fate pace o si vota? Preoccupazione del Quirinale, esclusi altre soluzioni e rinvii per il referendum sul taglio dei parlamentari. Conte, riforma dell'IRPEF e dell'IVA per durare tre anni, ma nel PD crescono i dubbi sull'alleanza con i 5 Stelle. Migranti, intanto, Italia verso la resa sul patto con la Libia, Tripoli alza il muro, anti-ONG. L'editoriale, non sprecare una sconfitta, scrive Carlo Verdelli, che è il direttore della Repubblica. Poi, tornando sulla manovra, c'è dolare secca al 10%, aumentano le tasse su sigarette e lotterie. E invece l'approfondimento sulla manovra. Poi, le fiamme non si fermano, a rischio il Museo Ghetti, California, l'apocalisse di fuoco. Questa immagine davvero impressionante che ci porta negli Stati Uniti, dove continua a bruciare la California. Nel taglio basso, FCA e Peugeot, nuove prove di matrimonio dopo il tentativo fallito tra FCA e Renault. Andiamo sulla stampa. I grillini processano Di Maio. Via lo statuto che l'ha reso intoccabile, silenzio di grillo. Parla Orlando, basta ultimatum oppure si vota. L'intesa sulla manovra a Palazzo Chigi, affitti c'è dolare secca al 10%, tasse sulle vincite ai giochi al 15%. L'analisi di Marcello Sorgi, la precaria ripartenza del governo. Come vedete, tutti i principali giornali hanno dei dubbi sulla tenuta del governo dopo la sconfitta nelle elezioni regionali Umbre. E poi andiamo a vedere invece la fotonotizia. Renzo Piano, ecco la mia casa per l'arte che nascerà a due passi dal Cremlino, nel cuore di Mosca. E poi le trattative fra Peugeot e FCA, trattativa per il colosso dell'auto, in discrezione che arriva dagli Stati Uniti, dal Financial Times, può valere 45 miliardi di euro. Andiamo a vedere il fatto quotidiano con questa strana, diciamo, bipartizione fra Di Maio e Zingaretti. In metà corpo di Di Maio e in metà di Zingaretti. Da un lato la crisi dei 5 Stelle, cosa devono fare? I consigli non richiesti, alleanze regionali ok, caso per caso. Grillo più coinvolto, uscire dal palazzo, nuova narrazione, meno isteria. Sì, a Bonacini, questi sono i consigli non richiesti del fatto quotidiano ai 5 Stelle. Vediamo invece il lato Partito Democratico. Che succede nelle prossime regioni? Dove si vota nel 2020? Emilia e Toscana. Ipoteca, Renzi, Marche, il patto c'è. Campania e Calabria, il RAS PD resistono. I 5 Stelle soli in Liguria e in Puglia. Emiliano non li vuole. Dunque vedremo, insomma, nei prossimi mesi che cosa accadrà. Andiamo nel taglio basso. Treno deragliato e tre morti. RFI risparmiò sulla sicurezza il disastro di Pioltello, l'inchiesta sull'incidente del 2018. Verso il processo due manager e sette tra dipendenti e tecnici, la stessa società e due ex vertici dell'Azenzia per la Sicurezza. Un giunto danneggiato del binario era stato, tra virgolette, riparato con uno zoccolo di legno e saltò al passaggio del convoglio. Andiamo sulle 24 ore e, come detto in precedenza, torniamo sulle trattative nel mondo dell'auto. FCA e Peugeot trattano una fusione da oltre 40 miliardi. Wall Street Journal rileva e rivela il negoziato tra le opzioni, una fusione tra uguali. Tavares sarebbe il CEO, John Elkan il presidente. Oggi CDA straordinario del gruppo PSA. I mercati credono all'intesa. Wall Street balza di oltre il 7% il titolo italo-americano. L'analisi, tentativo di risposta europea nell'industria dell'auto, secondo Paolo Bricco. Poi, allarme dell'Ocse e investimenti esteri frenati dalla guerra dei Dazi, meno 20%. Servono tavoli anticrisi con enti locali e imprese, dice la Mattioli di Confindustria. Andiamo nella fotonotizia. Annunciate quotazioni miliardarie per Saudi Aramco e per TikTok, che sono due aziende completamente diverse. La prima, come si intuisce, che si occupa di energia, in particolare di petrolio. La seconda, invece, dedicata ai social network. Andiamo a vedere poi l'approfondimento sulla manovra. Restano plastic e sugar tax nella legge di bilancio. Cambia l'acedolare e ferma sugli affitti al 10%. I mutasi, ora arriva la local tax. Andiamo adesso sul messaggero. Il titolo di apertura, rischio voto, tregua sulla manovra, accordo al vertice. L'acedolare secca al 10%. Si tratta sulla flat tax, 600 milioni alle famiglie. Conte e PD frenano di maio. Stiamo uniti o corriamo pericoli. Renzi, ora il Premier, va aiutato. Poi, Luca, ucciso per una faida. Spunta la guerra tra pusher. Per gli investigatori, la droga da comprare serviva per lo spaccio. Questo quanto emerge dalle indagini sulla morte di Luca Sacchi. Andiamo adesso sul manifesto. L'editto libico. Il titolo sulla fotografia. Stop ai soccorsi in mare senza autorizzazione della Guardia Costiera. La guerra agli ONG del governo di Al Sarai alla vigilia della scadenza del memorandum tra Italia e Tripoli. Un decreto minito in salsa libica con l'obiettivo di ottenere la prosecuzione dei finanziamenti di Roma per fermare i profughi. Passiamo adesso su avvenire. Anti-ONG con Bigia. Il governo di Tripoli ridà ruolo e fiducia all'ufficiale messo sotto accusa dalle Nazioni Unite. La Libia fa la guerra ai soccorsi umanitari e schiera il trafficante guardia coste. Si risolve la vicenda Ocean Viking. I 104 a bordo in Italia, Francia e Germania. Poi in Libano. Il Libano in piazza fa cadere il Premier. Ariri si dimette per le proteste e gli scontri. Il governo lima la manovra. L'Unione Europea è pronta al via libera. Niente aumento della cedolare secca sugli affitti. Oggi altro vertice. Legge che è in ritardo. Sul tempo Grillo li voleva buttare via l'Italia salvata dai nonni. Il Censys rivela sono stati gli anziani a tirare i consumi. Più di tutti gli altri con effetti sul PIL hanno pensioni bassine ma vogliono godersi la vita. Spendono per viaggi cultura e balli. Poi andiamo su Libero. Volevano uccidere Salvini. Invece sono morti loro. Conte, Di Maio e Zingaretti. Chiaramente sono loro. Si sentivano furbi per aver fermato Matteo e lo hanno pure preso in giro. In realtà sono stati seppelliti dal voto Umbro. Il popolo non li capisce più. Gigino canta in tv da Costanzo ma non gli passa. Comunque questo è il titolo sarcastico di Libero. Andiamo sulla verità. Le balle di Giuseppi. Ecco le prove. Giuseppi chiaramente è il premier. Così lo chiama il giornale di Belpietro. Dice che quando ha dato il parere legale a Mincione non immaginava di andare al governo. Falso. Quel giorno la stampa lo indicava come premier in pectore. L'8 luglio il suo Consiglio dei Ministri ha accolto la richiesta che lui aveva fatto da avvocato il 14 di maggio. La grana del fondo indagato dal Vaticano. Poi altre sberle dagli Stati Uniti. L'inchiesta di Barr avanza. Il Copa Sir Torchia 3 ore. I nostri 007 sul caso. Andiamo adesso sul mattino. PD 5 Stelle tregua sulla manovra e il titolo. Ma in realtà la notizia principale la troviamo sotto la testatina. Gli ultimi giorni della Whirlpool domani chiude lo stabilimento di via Argine. Notizia insomma che il mattino chiaramente ha seguito molto da vicino. Ma non solo insomma notizia di spessore nazionale. Il commento, lo schiaffo dell'azienda e gli errori del Ministero. Andiamo adesso sul secolo XIX. Il titolo di apertura resa nei conti del Movimento 5 Stelle. Di Maio adesso rischia. Orlando basta ultimatum. Poi l'abbiamo già visto ma ci torniamo. Piano così porto il cielo nella casa dell'arte di Mosca. Questa è l'ultima impresa possiamo dire dell'archistar genovese. Poi andiamo sui quotidiani sportivi nazionali. La Gazzetta dello Sport apre con questo gioco di parole. Lula piena. Ancora Lukaku, Lautauro, Inter in una notte in testa. Bel Brescia e Nerazzurri soffrono ma alla fine vincono 2 a 1. Capolavoro del bomber belga che festeggia con Conte. Una vittoria sudatissima. Il tecnico furioso su rinforzi e calendario. Sette gare in venti giorni. Strano. Siamo ai limiti. Giochiamo. Giocano gli stessi. Andanovic il migliore. Tonali incanta. Balo spreca. Allo stadio Milgenova di Tiago Motta. E adesso a te Juve Bonucci. Totem di Sarri. E Ronaldo cerca la punizione perduta. Poi domani Brivido Milan con la Spal Suso. Ultima chiamata. E Piontek ci riprova. Questo per quanto riguarda il Milan. Adesso andiamo sul Corriere dello Sport. Luke Hiller è il titolo con la foto di Lukaku. L'Inter soffre a Brescia ma vince e torna prima grazie a Romelu. La squadra di Conte passa con una rete di Lautaro e una prudezza del belga. Sofferenza dopo l'autogol di Skriniar. Il tecnico. Quarta gara in nove giorni. Mi prendo i tre punti. Poi Juve CR7 per il controsorpasso. Ronaldo e Di Bala contro il Genoa. Riposano Iguain e De Ligt e Sarri. Più concretezza. Questo viene chiesto alla squadra. In B. Chievo e rimonta sul Crotone. Perugia Ascoli è pari. Questo per quanto riguarda il campionato cadetto. Nel taglio alto. Napoli sfida Gasp e comincia da tre. Roma senza tregua. Fonseca non cambia. Andiamo a vedere anche Tutto Sport e concludiamo questa prima parte di rassegna. Testa a testa è il titolo con la foto di Lukaku e CR7 l'uno contro l'altro. Lautaro e Lukaku stendono il Brescia. L'Inter ritorna al comando però la Juve stasera contro il Genoa cerca il controsorpasso. Sarri detta la ricetta per essere più concreti. In zona gol occorrono cattiveria e concentrazione. Il problema è soltanto mentale. Nel taglio alto il Torino tutto in 72 ore. Stasera la Lazio, sabato il derby serve una svolta. L'Atalanta, terza contro quarta, notte da Champions, De Laurentiis carica il Napoli per questa sfida. Poi chiudiamo con il tennis. Finali ATP Torino sarà a cinque cerchi. Appendino e Binacini a Roma. L'evento nella legge olimpica. Pausa pubblicitaria adesso. Andiamo a vedere anche le previsioni del tempo e poi torniamo con la seconda parte della nostra rassegna stampa. Eccoci di nuovo insieme per la seconda parte della nostra rassegna stampa. Torniamo sulla notizia con la quale abbiamo aperto la nostra rassegna, cioè la morte del ex manager dell'asle di Teramo Fagnano. Appena passato in regione Abruzzo, muore Fagnano, shock nella sanità regionale, un infarto uccide a 56 anni il manager che piaceva a Lega e PD. Ha guidato per cinque anni l'asle di Teramo, ma da settembre comandava su tutto. A neanche il dramma ferma la protesta dei precari della ASL con la manifestazione che si è svolta regolarmente ieri all'Aquila. Le reazioni, la politica è in lutto, stop al Consiglio regionale. Sospiri ci fermiamo per ricordarlo, Marsilio aveva una grande professionalità, da Legnini a Polucci a Marcozzi, Belachioma e tanti altri. Il cordoglio è un'anime. Poi nel taglio basso c'è il ricordo del governatore emerito d'Alfonso, da Molisano ha dato tutto agli abruzzesi. Questo sul centro, andiamo a vedere sul messaggero, però dobbiamo andare nella pagina di Teramo. Morto il manager Fagnano Sanità Abruzzese sotto shock, il DG regionale dell'Agenzia alla Salute ed ex dirigente dell'ASL stroncato da un infarto. Da ieri pomeriggio la camera ardente, questa mattina la messa del Vescovo e poi l'addio. Dramma nella casa Teramana del direttore, la moglie chiama il 118, ma non c'è nulla da fare. Poi andiamo a vedere anche la città, su questa notizia lutto cittadino per l'addio a Roberto Fagnano. L'ex direttore generale dell'ASL stroncato da un infarto fulminante, inutile ogni tentativo di rianimazione. Si è sentito male alle 8 nella sua abitazione a Torre Bruciata, trasferito a Almazzini dal 118. Il decesso è stato dichiarato alle 10.15. Il cordoglio, un lungo epitaffio per la morte del manager. Decine di messaggi ufficiali per la scomparsa del manager sanitario che ha guidato l'ASL Teramana. Qui vengono riassunti più o meno tutti quanti. I funerali si svolgeranno domani mattina alle 11 nella chiesa della Mater Ecclesi a Campobasso. Subito dopo si svolgerà la cerimonia della sepoltura. L'addio a Teramo invece questa mattina alle 9 con il vescovo Lorenzo Leuzzi che celebrerà una messa d'addio nella sala conferenza del secondo lotto. Poi la salma partirà appunto per i funerali in Molise. Adesso, restando sempre sulla città, andiamo nella pagina Abruzzo che invece ci parla di acqua sicura. De Santis smonta la risposta dei laboratori. I laboratori nazionali del Gran Sasso negano ogni coinvolgimento nelle contaminazioni di febbraio, ma il forum dell'acqua mostra le carte. Il punto di campionamento è definito nei referti non da noi, ma da Arta stessa che li ha prodotti. GS30, laboratorio INFN. Questa è l'indicazione. Le sostanze De Santis fa notare che l'esano compare tra le sostanze presenti nell'elenco inviato, l'ASL, nel gennaio del 2017. Adesso andiamo a vedere invece sul centro le altre notizie nella pagina Abruzzo. La grande vertenza, effetto cessione, Oshan, posti di lavoro a rischio per 400, allarme dei sindacati in Abruzzo. Gli store sono nove, oggi sciopero e manifestazione a Roma per chiedere garanzie. Poi ancora premio cambiamenti, oggi la sfida finale appescarà la manifestazione della CNA. Nella pagina successiva il caso termina il bus a Roma, Lega e Fratelli d'Italia non credono alla Raggi. La lettera della sindaca a Marsilio non basta. De Santis oggi manifestiamo a Roma e De Priamo presenta l'interrogazione. Poi ancora l'iniziativa del Carroccio e Angelo Sante presenta la legge per salvare i piccoli tribunali, Avezzano, Lanciano e Vasto. Prima di passare alle pagine di Pescara sul centro, andiamo a vedere le pagine che riguardano l'Abruzzo sul messaggero. Torniamo sulla questione Gran Sasso, acqua e laboratori. Quelle sostanze non sono le nostre. L'INFN nega ogni responsabilità sulla nuova contaminazione, ma il forum dell'ambiente insiste. Non ci siamo sbagliati. Poi De Nicola dei 5 Stelle, torniamo ai valori d'Alessandro di Italia Viva. Fatti troppi sbagli queste le reazioni al voto in Umbria. Nel taglio basso Alta Cucino, una brigata di giovani chef dietro Romito. Dalla Michelin al Gambero Rosso piovono riconoscimenti anche su tantissimi locali. Restiamo sul messaggero, nelle pagine di Pescara. Crack De Nicola, testa vuole patteggiare. Il consigliere regionale di Fratelli d'Italia verso la condanna a un anno e mezzo due bancarotte prescrizione per truffa. Seconda, Tegola giudiziaria dopo il recente rinvio a giudizio per l'appalto del dragaggio del porto. Lunedì la decisione del GUP chiedono l'accesso ai riti alternativi anche l'imprenditore di scuola e sanità, i suoi familiari e gli altri imputati. Nel taglio basso L'uomo sulla luna parla abruzzese, il cronista immaginario di Sabatini. L'ho ambientato in una regione amata, l'autore parla del protagonista di Moon, raccolta di 11 racconti. Nella pagina successiva Università Vista Mare, Milia in campo, ieri vertice con il rettore, l'avvocato titolare dei terreni accanto all'ex Cofa, prenotati dall'adannunzio, ha incontrato Caputi e il direttore Cucullo. L'Ateneo senza pace, un altro Vietnam in aula all'orizzonte dopo le battaglie di 30 anni fa per Viale Pindaro. Poi solo facoltà a vocazione ambientale dai 5 stelle, un sì a metà al DUP della giunta Masci. Andiamo a vedere anche la Oma, cancelli chiusi, scatta la cassa, sfuma la possibilità di continuità produttiva dopo incontro in fabbrica tra i sindacati e il curatore fallimentare Costantini, rabbia e delusione tra i 300 operai, la proprietà ci ha rassicurato fino all'ultimo negando l'evidenza. Altre vertenze, Conad Oshan, nozze a rischio per 400 dipendenti con la nascita del supergruppo che comprende anche i Persimpli e 146 negozi in Abruzzo potrebbero essere sfoltiti. Poi andiamo a vedere le pagine di Pescara sul centro. Il fallimento, l'ultimo giorno di lavoro alla Oma, stoppa la produzione, la speranza e la Human Gest. I sindacati minacciano proteste, i dipendenti chiedono la cassa integrazione. Nel taglio basso, dal sogno alla disoccupazione, De Melis, ingegnere senza lavoro da 8 mesi dopo aver lasciato fameccanica, altra vertenza. Poi truffe e fallimenti, il processo testa patteggia 18 mesi per bancarotta, abbiamo già visto in precedenza. Per la cronaca, scippo un'anziana bloccato da un passante, arrestato un giovane senza fissa dimora, aveva strappato una catenina dal collo di una 76enne. Idee per la città, Movimento 5 Stelle nell'area di risulta ai palazzi della regione. I 5 Stelle bocciano il programma di Masci e svelano i loro progetti per Pescara. Per l'ex Cofa propongono un parco del mare, edifici universitari. Un acquario, oggi in consiglio, riparte l'esame del documento con 3.000 emendamenti. Poi, cimiteri da oggi scattano i divieti per la commemorazione dei defunti. Sicurezza, il PD va dal prefetto, oggi delegazione che presenterà un piano per la sorveglianza. Andiamo avanti. Donazione dell'AIL nella sanità ospedale, arriva l'apparecchio che combatte i tumori del sangue. Si chiama Clinimax Prodigy e contrasta le malattie più resistenti con la manipolazione di cellule. Stamane cerimonia con Masci, Valentinetti Capucilli, il manager Asle Caponetti e l'assessore Veri. L'ematologo dice che è una terapia che uccide le cellule tumorali. Poi ancora, gli studenti del liceo classico fanno i docenti della prevenzione, l'iniziativa della LILT, la Lega Antitumori. Poi, andiamo avanti. Domani i negozi in festa per celebrare Halloween. Iniziativa nelle strade del centro organizzata dall'associazione Viviamo Pescara. Tanti palloncini colorati, maschere e dolcetti per accogliere adulti e bambini. Il COISP denuncia poliziotti senza tutele e protesta contro il governo del sindacato di polizia. Nella pagina di Montesilvano Blitz invia Isonso, rapinano un cliente e arrestati quattro trans. L'uomo aveva trovato Camila sul web, poi l'incontro a Montesilvano e ricatto il furto del telefonino. Ai domiciliari i tre colombiani, uno riesce ad allontanarsi. Sequestrati i sughi e condimenti in una tavola calda del centro da parte dei carabinieri del NAS. Poi a Spoltore, PRG, in carico all'Università Architetti contro il Comune. Il presidente dell'Ordine, Angelo D'Alonso, attività professionale mascherata dalla consulenza, l'ente avrebbe dovuto fare un avviso pubblico. Nel taglio alto, a Santa Teresa di Spoltore, sulla statale 602, lavori per due attraversamenti pedonali. E poi a Francavilla, a questione case popolari, il progetto è fermo in Comune. Da oltre un anno l'opera nell'area ex un'era e in attesa della convenzione e della delibera del Consiglio. Campli dice presto il documento arriverà in assemblea. Pagina successiva, lettera a Conte per sbloccare i lavori alla discarica di bus, iniziativa di consiglieri di Renzo e Toppi. Ogni venerdì invieremo una mail al presidente per chiedere la bonifica. Poi ancora il basket penne, festeggia 37 anni di storia, colle Corvino al via i lavori di restauro degli affreschi di San Patrignano. Restiamo sul centro, adesso le pagine di Chieti. Furto al Bancomat da oltre 100 mila euro, raid misterioso senza scasso in pieno centro storico. Il ladro ripreso dalle telecamere aveva le chiavi e conosceva i codici. Assaltò il Postamat arrestato per omicidio uno degli autori del colpo di Piane d'Arche accusato di aver ucciso l'ex suocera preso dopo la fuga a Cristoforo Algar. Poi omicidio stradale a Chieti, donna indagata, travolto in strada, muore un ex carabiniere Giuseppe Tacconelli, 82 anni, investito davanti casa da una lancia Ypsilon guidata da una 61enne di Ripa, LPM, ordina l'autopsia. Poi ancora la cronaca, schianto contro l'albero e ferita, 59enne sbanda con la 600, i vigili del fuoco la liberano dalle lamiere. Tragedia a Chieti trovato senza vita dal fratello, l'autopsia ucciso da un infarto. La Sevel si ferma sabato per il ponte a Tesse, il sindacato Fim Cisle escluso dalla trattativa e la prima volta in 40 anni. Vasto, D'Aspa, un ultra, bottiglietta gettata in campo, tifoso senza stadio per due anni. Andiamo a vedere nelle pagine di Chieti sul messaggero le altre notizie. Sensi unici e più posti auto per favorire il commercio. La media distribuzione non potrà andare oltre i 600 metri quadrati nel centro urbano. Di primio progetto innovativo strategico per la piena attuazione ci vorrà tempo. Illustrati i dettagli del piano approvato dal Consiglio Comunale che andiamo a vedere nel servizio di Giuseppe Dintino. Dopo 18 anni consegniamo alla città un piano programmatorio, un piano completo, un piano che mi auguro, a partire da ieri, neanche da oggi, ma soprattutto per il futuro, sia trasformato in azione. Chieti approva il nuovo piano per il commercio. Il Consiglio Comunale lo ha votato all'unanimità e questa concordanza rappresenta un unicum per la classe dirigente teatina. Durante tutto il lavoro che è stato realizzato c'è stata una condivisione di idee sia della maggioranza sia dell'opposizione. Devo dire che ieri la valenza, come diceva lei, di questo piano commerciale ha fatto sì che con gli ammendamenti che abbiamo in qualche modo presentato abbiamo cercato di migliorare tutto il lavoro che era svolto e devo dire che ha avuto l'unanimità dei presenti all'interno del Consiglio Comunale. Devo dire che è un fatto che non succede pochissime volte, ma che ieri ha fatto sì che acquisisse ancora più importanza il lavoro che è stato realizzato. Diverse le novità in programmazione per rilanciare le attività commerciali. Uno di questi fondi ovviamente è il discorso della mobilità. È una cosa assolutamente importante che dopo forse decenni si definiscono in maniera sistematica, quindi vengono messe a sistema le aree mercatali, che sono tre, due nella parte alta e una nella parte bassa, che sono quelle storiche, ma c'erano sempre le prologhe e finalmente siamo riusciti in qualche modo a definirle in maniera precisa. Il tempo ora ci dirà se il piano sarà rispettato, se così fosse potrebbero essere subito evidenti le ripercussioni sul territorio. Il piano commercio non è solo il piano del rilancio del tessuto sociale e economico, ma è anche il piano del rilancio urbanistico, del traffico e della viabilità, se saremo capaci veramente, avremo il coraggio di creare il round, il senso unico, i parcheggi a spiega di pesce, credo che gli effetti saranno immediati, altrimenti il tutto rimarrà a lettera morta. Sul messaggero nella pagina della provincia teatina, rapina in villa, appello a tempo di record, udiense all'Aquila il 22 di novembre per il colpo ai danni dei coniugi martelli e Carlo si sfoga. Sono indignato, i legali di Ghivizio intanto hanno presentato richiesta dal carcere ai domiciliari con il braccialetto elettronico. Sull'incendio nella discarica al cupello ambiente ci sono dati rassicuranti sull'aria, ma si rischiano ulteriori incendi. Torniamo sul centro, andiamo nelle pagine di Teramo. Pratiditivo in vendita agli impianti, è stato pubblicato il bando, prezzo a base d'asta 3,6 milioni, di Natale la stagione invernale sarà regolare e senza intoppi. Caccia al fortunato vincitore di 5 milioni a Crogna Leto, i sospetti si concentrano su un operario straniero che ieri non si è presentato in cantiere. La ciclabile sul lungomare fa accendere il Consiglio Comunale di Silvi, municipio di battito aperto ai cittadini e alle associazioni residenti e il Conalpa, contrario al taglio degli alberi, per far posto alla pista. Ad Atri, turismo religioso, l'assessore punta a far conoscere le chiese. Poi andiamo a vedere sul messaggero le pagine di Teramo. L'apertura l'avevamo già vista con la morte del manager Fagnano. Ritroviamo la notizia della vendita degli impianti di Pratiditivo. Poi andiamo a vedere nel taglio basso la battaglia per il nuovo ospedale. Gli architetti invitano un progetto comune nella pagina della provincia Condominio Solidale, 6 anni in rosso. A Giulia Nova l'assessore Albani dice una cifra spropositata per aiutare sempre le stesse persone. Daremo contributi ma devono trovarsi la casa. Il sindaco Costantini annuncia proveremo a far aprire il bar nel Parco Franchi e a trovare soluzione per Mare Chiaro. Andiamo a vedere adesso sulla città le altre notizie dal Teramano. Basta tavoli, per le scuole servono soluzioni. L'ex assessore Mario Cozzi critico con l'amministrazione d'Alberto per la lentezza nell'affrontare i problemi. Mobilità unita è la risposta per ora. Il percorso pedonale, il comune intanto pensa alla sicurezza. Ospedali, situazione antisismica preoccupante. L'ordine degli architetti invita le istituzioni a cambiare metodo sulle scelte per l'ospedale nuovo. Le barriere architettoniche si parte con le scuole. Ha approvati 5 finanziamenti per altrettanti istituti. Primo passo del programma PEBA, atteso dal 1996 a Teramo. Abrex è uno slancio per l'economia locale. Dalla fase pionieristica all'esempio internazionale cos'è e come si afferma un circuito di credito complementare che non c'è soltanto in Abruzzo ma anche in altre regioni. Poi a Campli, ecco come salvare Castelnuovo dal dissesto. Il sindaco Costinelli annuncia la gara per la progettazione dei lavori e presenta lo studio di fattibilità. L'importo dell'incarico per la progettazione del piano antidissesto è di 327 mila euro circa. Proseguiamo. Rastelli riconsegna deleghe al sindaco a Montorio, atto necessario per permettere all'amministrazione comunale di continuare il suo lavoro. Tortoreto aiuti alle famiglie in difficoltà, deliberato dall'aggiunta comunale il contributo economico per chi è senza lavoro. A Tortoreto, dipendente in federe, sottrae merce al supermercato. Poi a Giulianova sbarca l'outsourcing alberghiero, il consorzio che sponsorizza il calcio cittadino. È una novità del settore turistico e occupazionale. Ancora nuova proroga per il condominio solidale. Abbiamo visto già questa cosa a Giulianova. Nel taglio basso, sempre da Giulianova, mal di pancia idea per il ripensamento di Tribuiani per quanto riguarda il ricorso al Tar. Torniamo sul quotidiano Il Centro. Andiamo a vedere le pagine dell'Aquila. Il decennale, lo spazio dimenticato, parco della memoria, prima pietra dopo attese, polemiche e ritardi. Al via i lavori a Piazzale Paoli, nel progetto la realizzazione della fontana monumentale dell'Obelisco. Poi capistrello, incidente sul lavoro grave, un geometra precipitato nel cantiere. Un volo di 5 metri dal ponteggio, il 61enne ispezionava il cantiere della nuova linea della metropolitana di Milano. Il caso ad Avezzano, cure negate a una donna malata, appello l'asle del marito della paziente malata di sclerosi multipla. Molestia, una nota ristoratrice, uomo finisce a giudizio. Il prete cantante aiuta Ludovica a concerto di padre Rizziero a Pescina. Poi la polemica fra l'Ogli e la Regione, per i fondi e le imprese i ritardi non sono nostri, dice l'ex vicepresidente della Giunta. Prima di passare allo sport andiamo sul messaggero per andare a vedere le pagine dell'Aquila. Parco della memoria si parte, Vittorini sembrava un peso. Inaugurati i lavori che finiranno a maggio, Belisco ridotto, ma non per le proteste. I familiari delle vittime sia un luogo capace di migliorare il futuro della città. Poi nel taglio basso la vertenza call center, altro vertice domani in programma a Roma per i lavoratori del call center Transcom e Consorzio Lavorabile. Poi nella pagina della provincia, così toglieremo la plastica dalle scuole. Il sindaco di Aielli di Natale, assieme a quello di Cerchio, hanno deciso di eliminare le bottigliette per dare un esempio. Saranno sostituite da borracce di alluminio personalizzate con il logo del comune e le cui immagini sono già state diffuse. Eccola qui la borraccia, iniziativa che si sta diffondendo e che arriva dalla Gran Bretagna. Andiamo adesso nelle pagine di Sport e apriamo, parlando chiaramente della gara di ieri del Pescara. Doppia pagina sulla cronaca della partita per il centro, una notte da dimenticare. Pescara torna piccolo, brutto passo indietro. Partita che è finita 2-1. Zauri che commenta, commessi errori fatali ma l'atteggiamento non mi è piaciuto. Prima di andare a vedere il servizio e anche le reazioni nel dopogara, andiamo a vedere insieme sul messaggero l'apertura dell'Abruzzo Sport. Sempre dedicata al Pescara. Pescara, KO e passo indietro. La Juve Stabia vince 2-1 dopo un primo tempo scoppiettante all'inizio rigore parato da Castrati. Vantaggio illusorio di Galano, poi il pareggio di Forte nella ripresa. Il gol decisivo di Canotto, espulso Ciofani. Le interviste, la delusione di Busellato, secondi su ogni pallone. Zauri commenta così, non tutto da buttare. I ragazzi hanno fatto il massimo. Allora andiamo a vedere il servizio di Paolo Renzetti e poi Zauri nel dopogara. Nella bolgia del Mentil, Pescara conosce una bruciante sconfitta per 2-1 ad opera della Juve Stabia al termine di una corrida contrassegnata anche da una serata piuttosto infelice del direttore di gara che ha negato un evidente rigore ai biancazzurri nel primo tempo. Per i ragazzi di Luciano Zauri il campo delle Vespe si conferma ancora una volta stregato così come era accaduto nelle precedenti esibizioni nel torneo cadetto. Del Delfino alle assenze numerose già previste. Si aggiunge anche quella dell'ultimo momento di Ledian Memushai in porta a Cecca a Strati con la conferma del 4-3-2-1. I locali rispondono con il 4-3-3 panchina per l'ex del sole. Clima caldo al Menti dove dirige Volpi di Arezzo di fronte a quasi 5.000 spettatori di cui 118 pescaresi. L'avvio della gara vede al quarto subito un insieda per i campani con un tiro di poco al lato di Galano. Il campo sintetico e le dimensioni leggermente ridotte creano qualche problema ai biancazzurri. Al nono minuto sugli sviluppi di un angolo Masciangelo tocca il pallone con la mano. Per il direttore di gara Retino è il rigore. Dagli 11 metri si incarica della battuta Francesco Forte che viene ipronetizzato da Castrati che para in due tempi. Si resta così solo 0-0 ma per pochi minuti perché al 14esimo Masciangelo crossa per Bussellado che poi mette il pallone in mezzo per Galano che ha due passi da Russo. Non sbaglia per il vantaggio del Delfino. Sembra mettersi bene la gara per gli abruzzesi che però al 18esimo subiscono la rete del pareggio ad opera di Forte che si riscatta dopo l'errore dagli 11 metri andando a mettere il pallone alle spalle di Castrati. Almenti si gioca in un'autentica bolgia. I padroni di casa ci credono e così al 21esimo e Carlini a chiamare al salvataggio Castrati attaccano affolati i padroni di casa e spesso creano problemi alla retroguardia adriatica grazie alla velocità di Carlini e compagni incitati a gran voce dei propri tifosi. Il Delfino cerca di approfittare di qualche buco delle vespe come accade poi al 29esimo quando Masciangelo prende la mira ma conclude da prima del limite fra le braccia del portiere russo che poi al 32esimo nega a Galano la doppietta e il gol del raddoppio del Pescara. Gara che invece non regala un attimo di sosta visto che il 37esimo è ancora Castrati a salvare su punizione angolata di Canotto. Al 41esimo i biancazzurri chiedono un rigore dopo un contatto fra Borrelli e Fazio in area di rigore Campana. Il giocatore della Juve Stabia sembra commettere fallo ma Volpi vede invece un fallo dell'attaccante pescarese che si dispera inutilmente. Nella ripresa i biancazzurri approcciano discretamente bene ma al primo a fondo dopo un angolo non accordato al Pescara subiscono il gol del vantaggio dei perroni di casa con Forte che lancia Canotto che profitta di una ingenuità della difesa abruzzese andando a superare Castrati per il 2-1. Il clima del Menti diventa ancora più bollente ora con i biancazzurri costretti a rincorrere e con Zauri che gioca la carta di Grazia al posto di un Ingelson ancora una volta deludente. La reazione della formazione ospite non è però ficcante con Russo chiamato solo alla ordinaria amministrazione e con Zauri che fa esordire al 29esimo il giovane Pavone per Palmiero e poco dopo Caserta risponde con l'ingresso in campo dell'ex del Sole per Canotto. Si arriva all'ultimo quarto d'ora di partita con il Pescara in campo con il 4-2-3-1 ma per i biancazzurri non è una grande serata visto che al 35esimo viene espulso Ciofani per doppia munizione. Ospiti che restano in 10 con la gara che si fa ancora più in salita e con i biancazzurri che attaccano anche nei minuti di recupero senza trovare il gol del pareggio anche la Juve Stabia resta in 10 per l'espulsione di Mallamo ma alla fine porta a casa il successo per il Pescara e una beffa troce. Non l'abbiamo interpretata secondo me bene dal punto di strateggiamento oggi non posso dire niente ai ragazzi che hanno provato fino alla fine a pareggiare nonostante fossimo in fetta numerica perché è chiaro che abbiamo commesso gli errori e andiamo a casa con la sconfitta e abbiamo poco da recriminare. Di sicuro abbiamo provato a riaddrizzarla con delle situazioni che abbiamo creato fino alla fine e dispiace perché comunque sia un pareggio avrebbe detto poco però comunque sia avrebbe dato un po' di continuità al Pescara che comunque sia alterna troppo i risultati positivi e negativi non riesce mai a avere un po' di equilibrio. Abbiamo subito due gol su ripartenze che è lunga sull'interpretazione che abbiamo dato alla gara quindi oggi che Pescara voleva giocare voleva andare di là e ci siamo riusciti per lunghi tratti è chiaro che le caratteristiche di Vestabia erano quelle che conoscevamo con attaccanti veloci e sguscianti e vedi anche la situazione dei due gol non siamo stati bravi a contenere in quelle situazioni che ci hanno creato loro bravi loro un po' meno bravi noi però insomma nel calcio si sta. Non va benissimo con gli arbitri nelle ultime settimane era successa la stessa cosa nella gara con lo Spezzi? Ti dispiace dispiace sono episodi che comunque sia cambiano le partite a noi i rigori ce li danno vorremmo che quando poi e ci sono li dessero anche a noi non è così così non è stato ma ripeto non è l'arbitro l'ultimo dei problemi Siamo in chiusura c'è il tempo per andare a vedere il titolo sul messaggero che riguarda il Teramo e dunque la Serie C il Teramo recupera l'attaccante Minelli fino a oggi era sempre rimasto ai box per problemi muscolari adesso è pronto squalificato il vice allenatore Mughetto per due turni ora un calendario impegnativo e poi il titolo sempre sul Teramo della città i gol di Bombaggi valgono un terzo del Diavolo la gara di domenica con la Casertana ha confermato che il centrocampo è il reparto top del Teramo 9 reti su 16 dalla mediana per il Teramo ci fermiamo qui io vi ringrazio per averci seguito anche questa mattina mattino 6 torna domani chiaramente alle ore 8 la nostra informazione oggi con il TG6 alle 14 alle 19 e alle 23 vi auguro davvero una buona giornata a qui è